Nell'agosto del 1418 l'Opera del Duomo aveva bandito un concorso per affidare a qualcuno la costruzione della cupola. Furono presentati 17 progetti e alla fine, dopo i vari vicissitudini, la giuria si concentrò su due progetti, quello del Brunelleschi e quello di Lorenzo Ghiberti. Si stava ripetendo la storia del concorso del Battistero di 17 anni prima. Anche questa volta la giuria non sapeva decidersi. Per costruire una cupola ottagonale, il metodo più comune era l'uso delle centine. Queste sono delle intalaiature di legno che hanno la stessa forma della cupola o dell'arco da edificare. Questo metodo era usato fin dai tempi antichi. Tuttavia, quando si deve costruire una cupola a base circolare, si può fare a meno delle centine. Infatti, in questo caso, è sufficiente costruire anelli concentrici di mattoni. Questi si reggono a vicenda e la cupola, mentre cresce, si sostiene da sé. È autoportante. Quando l'inclinazione dei mattoni, disposti lungo i paralleli della sfera, diventa eccessiva, questi, fino a che la malta non si è solidificata, potrebbero scivolare verso il basso. Per impedire questo scivolamento, alcuni mattoni ad intervalli regolari sono posti a coltello, cioè in verticale, con il lato più lungo perpendicolare ai paralleli della sfera. In questo modo, essi bloccano i mattoni posti lungo i paralleli. Questa tecnica si chiama spinafesce, poiché i mattoni sono disposti come le spine di una lisca di pesce. Sarebbe stata un'impressa difficile impostare una cupola a base circolare sul già esistente tamburo ottagonale. Per le cupole a base ottagonale tutto è più complicato, anche perché in queste non si ha una distribuzione uniforme delle sollecitazioni, come avviene, invece, nelle cupole di rotazione. Se le dimensioni della cupola fossero state quelle previste dal progetto di Arnolfo, tutto sarebbe stato più facile. Si potevano usare le centine. Inoltre, il suo minor peso provocava sollecitazioni minori. Ma per costruire la cupola della catterrale sarebbe stato necessario realizzare un'interagliatura di legno alta circa 32 metri, impostata ad un'altezza di circa 55 metri dal suolo. Le centine di legno, inoltre, avrebbero dovuto reggere per lunghi anni un peso enorme. La cupola pesa circa 29.000 tonnellate e la sua costruzione durò 16 anni, da 1420 a 1436. L'impresa si presentava impossibile. Inoltre, tale struttura sarebbe costata moltissimo. La forma della cupola interna ha un nome tecnico ben preciso. È un sesto di quinta acuto. Quella esterna ha la forma di un sesto di quarto acuto. Gli archi, invece, hanno bisogno di catene di ferro per bilanciare alla base le spinte verso l'esterno. Per superare tutte le difficoltà riguardanti la costruzione di eventuali centine, Brunelleschi propose un progetto rivoluzionario. La cupola sarebbe stata costruita senza centine. Benché la cupola fosse a base ottagonale, sarebbe stata innalzata senza centine, come se fosse stata una cupola a base circolare. Il 1420 è dunque l'anno in cui viene posata la prima fietra della cupola. L'opla del Duomo comprese che soltanto il Brunelleschi poteva portare avanti il progetto. I lavori della sua costruzione furono diretti dal suo figliastro, il Bugiano. Fortunatamente questo seguì alla letta del progetto redatto da Brunelleschi, poiché essa ha una funzione molto importante nella statica della cupola. Ha la funzione di contrastare le forze verso l'esterno, incuneandosi nella struttura. Entra nella cupola come un cuneo, che è proprio il serraglio. Ogni elemento della cupola ha una sua funzione, ben precisa. Perciò la pesantezza della lanterna, pesa più di 750 tonnellate, non la indebolisce, anzi la rende più stabile. Come abbiamo detto, la fossa della prima fietra fu posta nel 1420 e l'anno in cui siamo è il 2020, per cui è il sesto centenario della fossa della prima fietra e siamo in presenza, si può affermare, di un'architettura temeraria e allo stesso tempo, come è stato affermato al mito di Rimini, impossibile. Nella cupola vi si trova geometria, matematica, architettura, ingegneria e il Brunelleschi ha insegnato a fare l'architetto. L'UNESCO nel 1982 ha riconosciuto Firenze uno dei maggiori patrimoni artistici del mondo ed è stata definita la Culla del Rinascimento. È questo, in effetti, il momento storico in cui a Firenze solgono opere artistiche e architettoniche assai importanti e che donano alla città l'eterno fascino di cui oggi è dotata. L'affermazione artistico-culturale coincise con il suo stesso sviluppo economico. Per la costruzione di importanti opere artistiche erano stati i ricchi mercanti fiorentini. Oltre che per il fervore culturale rimostrato da personaggi quali Filippo Brunelleschi e geniali come Leonardo da Vinci, l'età rinascimentale e quella pre-rinascimentale è ricordata anche per l'attiva presenza di eccellenti figure che si sono succedute nel campo letterario. Certo è che la presenza di queste grandi opere molto spesso dà un'impronta fondamentale anche in forme architettoniche realizzate in epoche successive.